Una mostra fotografica, un incontro letterario e un workshop per scoprire il nuovo linguaggio dei mestieri in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'iniziativa, dal titolo Black Girl, parola di donna tra hashtag e realtà, si è tenuta a Giaveno ed è stata promossa dall'associazione italiana Tumore al Seno Metastatico, Noi Ci Siamo, con la consulta regionale femminile.